Amici di Fano TV, ben trovati. Oggi ci troviamo per questo approfondimento in studio e vi portiamo a conoscere una delle sagre più antiche del nostro territorio, la Sagra Polentara di San Costanzo. Abbiamo qui in studio con noi il nostro ospite, il presidente della Proloco di San Costanzo, Antonio Calabrese. Antonio buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Bentrovato, benvenuto ai nostri studi. Allora Antonio parliamo di questa sagra, abbiamo detto la più antica delle marche e ne abbiamo anche dei documenti ufficiali, addirittura degli anni 30. Degli anni 30, sì, un video dell'Istituto Luce che parla della nostra sagra con tutta la sfilata dei polentari, il carnevale, tutta la distribuzione della polenta degli anni 30 ed è una cosa, per chi io che l'ho vista, molto bella e significativa. Benissimo, la Sagra Polentara 21, 22, 23 luglio come date, ma insomma parlando del programma di queste tre giornate, partiamo dal 21 luglio che è Aspettando la Sagra. Sì, esatto, l'attesa del piacere e quindi attendiamo che arrivi il sabato per la distribuzione della polenta e saremo presso Piazza San Pio sul castello, il Mar sul Castello l'abbiamo chiamato, dove lì avremo una cena a base di spaghetti di vongole, scottadito, sardoncini di scottadito e ogni cena che daremo un euro lo diamo alla Lega del Filo d'Oro che è una nostra realtà della regione Marche, quindi una cosa importante, quindi anche come solidarietà. Quindi festa, ma non solo festa, anche tanta solidarietà, non solo con la Lega del Filo d'Oro, ma anche con un altro partner importante. Importantissimo, ormai da tanto tempo, che è l'Onlus di Adamo di Fano, che sarà con noi e volevo sottolineare che il 21, oltre a mangiare, ci sarà anche uno spettacolo di pizzica salentina, qua di Uvata poi con della musica, ci sarà un DJ e quindi vi aspettiamo a partire dal 19 con stand gastronomico, pizzica salentina e tanta tanta solidarietà. Ci tengo a presidere quello perché io alla Lega del Filo d'Oro, tanti anni fa sono andato anche a vedere com'è e sono cose che ti rimangono e bisogna, dove è possibile, aiutare. Assolutamente, dove è possibile aiutare, sensibilizzare e quindi andiamo avanti con il programma, abbiamo detto il 21 aspettando la Sagra Polentara, ma poi 22 e 23 entriamo nel vivo. Andiamo con l'inaugurazione, quindi col taglio del nastro insieme all'amministrazione comunale, alla nostra reginetta, alla nostra Vanessa, ci saremo tutti per la sfilata dei polentari, inauguriamo gli stand e iniziamo con il nostro menù che è ricco, ma noi dobbiamo sempre concentrare tutto sulla polenta. Chi viene a San Costanza perché vuole mangiare non solo le cose tipiche, che è dalla grigliata alle piedine, ma il punto cardine deve essere il nostro piatto di forza, la nostra polenta che ha radici, quindi con il sugo, con la sua tradizione, con i suoi segreti, perché i nostri cuochi inizieranno già i giorni che precedono, che anticipano la festa, a cucinare, a preparare tutto ciò che poi troverete negli stand il sabato e la domenica. Quindi ci sarà musica, ci sarà ioselito il sabato, avremo musica sempre presso Piazza San Pio, la bettola gestita dai nostri giovani, ci sarà animazione per i più piccoli, c'è Magic Circus, Mercatino Artigianale, Ritorna la Matta, il nostro gruppo musicale storico del nostro paese, che ci darà un po' di energia durante la festa, lungo la piazza, la domenica poi abbiamo Mirko e Simona come musica, sempre animazione per i bambini, bettola sempre aperta e in questo contesto ci saranno le nostre magliette gialle, che sono i nostri ragazzi, ragazze, bambine e bambini che ci aiuteranno, ormai è una realtà dall'anno scorso, nata dall'anno scorso, che hanno voglia di darci una grande mano e ci tengo a dire il fatto del solidale, che oltre quindi Lega del Filo d'Oro, Onlus, Adamo, Difano, faremo anche per i nostri anziani servizio al tavolo, questo per quanto riguarda la domenica e a domicilio per chi non si può muovere, per chi non si può spostare, che ha problemi nel territorio di San Costanzo, ordinare la polenta entro il sabato, che poi noi la domenica gliela portiamo a casa. Addirittura? Facciamo anche questo, assolutamente. Addirittura servizio d'asporto, bellissimo. Sì, per gli anziani del nostro paese, che tra l'altro, non li chiamiamo anziani, li chiamiamo un gruppo anche di pomeriggio insieme, l'hanno chiamato pomeriggio insieme, si stanno adoperando perché saranno presenti presso il nostro corso con un loro stand di tutti quegli prodotti che hanno fatto in questi giorni, stanno preparando tante cose, quindi è una sorpresa, veniteci a trovare perché queste cose mi fanno molto piacere. Assolutamente, benissimo. Un programma quindi molto ricco, dedicato veramente a tutte le fasce d'età e possiamo dirlo a tutti i gusti, sempre a base chiaramente di polenta perché la polenta sarà l'ospite d'onore di queste tre giornate. Sono le nostre radici ed è il passato, il presente deve essere il futuro, perché noi siamo gente, noi passiamo, noi siamo di passaggio, però ecco la nostra proloco, la nostra polenta ci sarà sempre. Benissimo, allora grazie mille Antonio, chiudiamo questo approfondimento chiaramente con i ringraziamenti ma anche specificando che quando si organizza una sagra di questa portata, quindi tre giornate con animazione un po' per tutte le fasce d'età, serve un gruppo forte dietro che possa sostenere l'organizzazione e questo gruppo in particolare è la proloco. Grazie, infatti in questi mesi si è parlato tanto dei numeri, quanti siamo, siamo tanti, anche la gente di fuori, al di fuori di noi a dirci che siamo più di 300 iscritti, ma io non voglio parlare di numeri, voglio parlare di noi, dei nostri volontari che da settimane, da mesi, quindi anche tutto il mio consiglio direttivo che si sta adoperando sia sul livello burocratico perché c'è anche tutto un lavoro dietro per poter far sì che in questi tre giorni ci sia la festa e che levano spazio alle loro famiglie, levano spazio alla loro vita privata sostanzialmente e quindi grazie a loro, grazie a tutti i ragazzi, le magliette, io ripeto sempre che le magliette gialle è stata una novità assoluta e che ci portiamo e ci dobbiamo portare per sempre, anche perché il sabato ci sarà una festa gestita dalla Proloco Giovani perché noi abbiamo la Proloco Giovani con un suo direttivo, un suo consiglio e alle ore 23 presso il teatrino parrocchiale, grazie quindi anche al nostro parroco che ci dà modo di gestire il teatrino parrocchiale, ci sarà questa festa e se noi riusciamo insieme ai storici, alla Proloco, insieme ai ragazzi dargli la responsabilità e il fare, le cose si fanno, bisogna dare anche ai giovani modo di dare lustro alle loro iniziative, dandogli fiducia e responsabilità. Ed è anche un modo per mantenere viva una tradizione che è importante. Esatto, perché non nessuno vuole rivoluzionare niente, si vuole evolvere, si bisogna andare avanti, tra l'altro mi sono dimenticato che avremo parcheggio con gratuito, con navette, due navette e abbiamo anche presso il campus scolastico il parcheggio per i camperisti, per chi vuole venirci a trovare. In caso di maltempo il 29 e il 30 di luglio, mi auguro di no, perché è molto l'attesa, è come diceva Leopardi, l'attesa del sabato del villaggio, proprio un paese che è in fibrillazione, veramente. Importante Antonio il volontariato che sostiene l'organizzazione di questa festa, ma anche gli sponsor e tutti coloro che hanno dato il loro contributo. Sì, esatto, infatti ringrazio tutti i nostri sponsor che abbiamo messo nella nostra brochure, tutti i nostri commercianti, tutti coloro che ci vogliono e ci danno una grande mano, ringraziando l'amministrazione nostra comunale, il consiglio regionale Marche, la provincia di Pesaro Urbino, l'UMPLI provinciale, tutte queste istituzioni che credono in noi e ci hanno dato il loro patrocinio, ringraziando anche tutti i nostri uffici comunali che ci assistono in tutte queste settimane. Grazie. Perfetto, grazie Antonio, grazie al nostro ospite, non ci resta che darvi appuntamento 21, 22 e 23 luglio alla Sagra Polentara a San Costanzo, il nostro approfondimento in studio termina qui, buona giornata a tutti.